Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi parlo delle letture che ho fatto a novembre. A novembre ho letto otto libri, alcuni ascoltati in audiolibro, alcuni letti in cartaceo come sto facendo ultimamente nell'ultimo periodo e oggi sono qua per parlarvene. Prima di cominciare vi ricordo di scrivermi nei commenti qua sotto i libri che avete letto voi invece perché sono sempre curiosissima e mi piace anche prendere spunto dalle vostre letture per scegliere quelle del mese successivo o del periodo successivo insomma. Detto ciò parto subito con il primo libro che ho ascoltato. L'ho ascoltato in una sera in macchina insieme a Marco. Stavamo andando a cena fuori e abbiamo ascoltato le fiabe di Beda Il Bardo scritte da J.K. Rowling. Le abbiamo trovate su Audible, non avevamo mai ascoltato queste fiabe, abbiamo detto perché no. Era tipo una serata in cui stava piovendo tantissimo, eravamo in macchina appunto al buio e devo dire che l'atmosfera ha accompagnato bene questo ascolto. Si tratta di un libro che personalmente non avrei mai acquistato in cartaceo, quindi mi ha fatto piacere recuperarlo in questo modo. Si tratta di 5 fiabe di cui vi leggo i titoli perché sono davvero bellissimi. Il mago e il pentolone salterino, la fonte della buona sorte, lo stregone dal cuore peloso, Baba Raba e il ceppo ghignante e la storia dei tre fratelli. Sono tutte fiabe che sono accennate anche all'interno della saga di Harry Potter, la consueta saga. Ad esempio la fiaba dei tre fratelli è totalmente riportata perché è la fiaba che racconta poi quelli che sono i doni della morte, quindi la fiaba dei tre fratelli è così. Penso che chi ha letto Harry Potter sappia di cosa sto parlando. Allo stesso tempo però queste fiabe sono affiancate da un commento, una nota fatta da Albus Silente che commenta la narrazione appunto contenuta all'interno della fiaba contestualizzandola col periodo in cui è stata scritta e poi mostrando anche come nel tempo magari la narrazione si è cambiata per alcuni aspetti sociali ad esempio. Infatti se voi ci pensate le fiabe sono raccontate ai giovani bambini, ai giovani ragazzi, alle giovani ragazze per insegnargli qualcosa e nel tempo le cose che bisognava insegnare a questi piccoli maghi erano completamente diverse e quindi lui mette in luce anche questi aspetti. Ho trovato davvero interessante questo espediente perché si integrano a delle semplici fiabe che bene o male insomma assomigliano anche a quelle della nostra tradizione con quel qualcosa in più che ti fa ragionare sul mondo dei maghi, ecco, che ti fa conoscere meglio la mentalità dei maghi e quindi questa cosa mi è piaciuta e sinceramente mi è piaciuto come ascolto. Ho ascoltato anche un altro audiolibro che però ho anche in cartaceo e si tratta di Noi che ci vogliamo così bene di Marcella Serrano. Questa è un'autrice cilena che racconta molto del Cile e mi è particolarmente piaciuta questa cosa perché lei parla del Cile, parla della politica cilena mettendo diciamo in gioco quattro amiche, quattro donne. Queste quattro donne sono in un qualche modo appunto legate alla politica del paese fanno parte del partito e si ritrovano dopo tanti anni in una casa a parlare della loro vita passata e quindi una per una queste donne vengono messe diciamo sotto la lente di ingrandimento e si vede un po' quella che è la loro vita tra mariti, figli, occupazioni quotidiane, lavoro eccetera eccetera. È un libro che sinceramente non delinea secondo me così bene queste quattro donne nel senso che a un certo punto io non sapevo più chi era chi stava parlando cioè si disgregano i confini tra loro fino a farle diventare quasi un unico personaggio un'unica voce, un'unica entità e un'unica identità ok? E questa cosa qua inizialmente mi dava un po' fastidio ma penso che effettivamente questo volesse essere anche un po' l'intento di questo romanzo ovvero mostrare come le vite delle donne anche se apparentemente sembrano diverse poi sono sempre la stessa perché a un certo punto la società chiederà alle donne di comportarsi in un certo modo, di essere un certo tipo di persona e queste faranno fatica a rifiutarsi di essere così. C'è ovviamente una nota femminista in questo romanzo perché Marcella Serrano fa discutere queste donne su il loro ruolo nella società su che cosa ci si aspetta da loro come dicevo prima ma anche su che cosa invece fanno gli uomini ci sono davvero tantissimi momenti in cui queste donne parlano, si lamentano degli uomini si parla proprio di quel femminismo di opposizione in cui, capito, le donne sono diverse dagli uomini per cui gli uomini si comportano in un modo, noi ci comportiamo in un altro e io in quanto donna posso solo lamentarmi di come mio marito non faccia quello che vorrei che facesse ecco, cioè un femminismo diciamo un po' vecchio però che allo stesso tempo fa, secondo me, pensare cioè c'è una scena che vi propongo in cui ci sono loro che sono lì appunto a bersi questo caffè, questo tè insieme discutono di quanto i loro mariti si comportino come loro non vorrebbero appunto raccontano proprio degli aneddoti, delle scene della loro vita con loro a un certo punto un uomo bussa alla porta, è il vicino di casa che chiede il caffè e loro che fino a un attimo prima stavano sghignazzando tra di loro stavano parlando con voce concitata appena entra questo uomo si zittiscono, stanno zitte iniziano a tacere fino al momento in cui lui non esce dalla casa perché ha preso questo zucchero che gli serviva e effettivamente una delle protagoniste dirà ma cos'è che facciamo quando non ci sono loro parliamo così e poi appena entrano ci spaventiamo, abbiamo paura, ci rintaniamo nella nostra testa nei nostri pensieri senza continuare a farci valere diciamo in quello che pensiamo e effettivamente è così, cioè lei fa notare anche come questo lamentarsi e basta non possa portare da nessuna parte comunque questa autrice Marcella Serrano ha scritto davvero tantissimi libri e io per ora ho letto solo questo ma ho visto che ce ne sono tantissimi che mi ispirano e non saprei dirvi se questo è il migliore da cui iniziare anche perché appunto io l'ho ascoltato in audiolibro, me lo sono goduto ho comunque appreso delle nozioni anche che non conoscevo riguardo alla politica cilena eccetera eccetera però allo stesso tempo non posso definirlo un libro imprescindibile un libro che mi ha svoltato le letture dell'anno oppure un libro ecco che consiglierei a tutti sinceramente mi è mancato un po' quella tridimensionalità che mi piace trovare nei romanzi l'ho trovato a volte un po' piatto anche perché appunto come vi dicevo queste donne a un certo punto iniziano a sembrare tutte la stessa per cui è difficile anche creare proprio delle identità a sé stanti almeno per me lo è stato per questa ragione probabilmente leggerò altro dell'autrice e cercherò qualcosa di più perché io penso che lei abbia scritto dei libri migliori ecco di noi che ci vogliamo così bene ah comunque io ho ascoltato questo libro in audiolibro e questa è la copertina che assolutamente non ha senso cioè guardatela sembrano tipo quattro amiche adolescenti che passano un'estate al mare insieme in campagna e cioè nel senso l'idea è quella ci sono quattro amiche che passano a un certo punto un periodo insieme in campagna ma non c'entra niente col senso della storia secondo me chi ha iniziato a ascoltare questo libro in audiolibro pensando fosse una storia così è sicuramente caduto in un tranello la copertina del libro invece così secondo me ha molto molto più senso proseguo con il fantasy del mese infatti questo novembre ho letto l'impero del vampiro di Jay Kristoff io sono una grande appassionata a questo autore e ve ne ho parlato molte volte perché ho apprezzato molto la sua trilogia Nevernight e ho voluto leggere anche la sua nuova uscita che è l'impero del vampiro in cui lui ambienta una storia con dei vampiri io avevo tantissime aspettative su questo libro perché? perché i vampiri sono una figura mitologica che a me piace tantissimo ho letto tanto sui vampiri, ho guardato tanto sui vampiri e mi affascinano sia le streghe che i vampiri sono delle cose che proprio io perdo la testa per cui le aspettative erano davvero tante ho comunque girato anche un intero video, un vlog in cui vi porto con me durante tutta la lettura del libro e c'è stato proprio un punto in cui poi io ho detto vabbè, cioè, ormai sono delusa c'è stato proprio un momento in cui mi sono resa conto che tutto quello che mi aspettavo da questo libro non si sarebbe manifestato infatti ho trovato la lettura, seppur molto 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 scorrevole un po' ni, cioè nel senso non mi aggiunge niente a i vampiri in generale il libro è ambientato in un mondo in cui a un certo punto non c'è più la luce ma c'è solamente la notte scendono le tenebre e riappaiono queste figure che sono delle figure malvagie e cattive da combattere in un qualche modo abbiamo poi Gabriel che è il nostro personaggione, è il nostro protagonista che in un certo senso è l'eroe della storia e deve salvare il mondo da queste creature il tutto è narrato su più piani temporali ci sono tre piani temporali distinti il primo che è il piano temporale più recente in cui c'è Gabriel, il protagonista, che racconta a Jean-François che lo sta tenendo prigioniero la storia della sua vita racconta, racconta, racconta e racconta altri due piani temporali il primo in cui lui è giovane e scopre di essere ciò che scopre di essere no spoiler e il secondo in cui lui è già un po' più vecchio ha 30 anni e si ritrova a vivere un'altra missione da compiere in tutto questo sembra sempre che manchino dei pezzi nel senso che sembra sempre che qualcosa non ci venga raccontato e qualcosa non ci venga detto e si spera che arrivando alla fine del libro insomma queste lacune vengano colmate ma personalmente non è stato così forse col secondo libro potrebbe essere però per quanto mi riguarda un libro da 700 pagine mi deve come minimo iniziare e finire un qualcosa mentre qua si lascia davvero tutto su alcune cose non dette che poi verranno dette alla fine ma che non cambiano assolutamente in alcun modo l'interpretazione del libro cioè nel senso l'interpretazione più grande del libro non è che ti danno alla fine quelle rivelazioni oh mio dio adesso ho capito tutto cioè capisci una cosa ma è una cosa davvero cioè irrilevante ai fini della storia quindi sinceramente è stata un po' una grande delusione questo libro ci ho pensato molto anche perché poi alla fine del vlog io mi ero detto mi prendo qualche settimana per pensarci e metabolizzare per poi rendermi conto che in queste settimane non mi è mai capitato di pensare ancora all'impero del vampiro nonostante sia stata una lettura davvero molto scorrevole perché io ho letto queste 700 pagine quante sono? sì, 700 pagine in pochissimo tempo e in modo molto scorrevole però allo stesso tempo finito il libro si è chiuso proprio un capitolo e io sono andata avanti tranquillamente con le altre mie letture senza pensarci più e quindi posso dire anche che odio questa frase perché a volte non ha senso però non mi ha lasciato niente e in questo caso è proprio così dopodiché ho ascoltato un altro audiolibro tanti audiolibri nell'ultimo periodo tantissimi e mi piace così perché sono il mio modo preferito quasi di leggere in questo momento e ho ascoltato Le ragazze stanno bene di Giulia Cuter e Giulia Perona questo libro è un libro femminista in cui si parla delle donne e in cui si parla delle problematiche che le donne in Italia vivono è un libro appunto scritto da due italiane per questo è abbastanza vicino alla nostra realtà e se lo leggiamo riusciamo sicuramente a riconoscerci in tante dinamiche è sicuramente l'ennesimo libro sul femminismo nel senso che dopo averne letti già tanti questo mi aggiunge poco rispetto alla riflessione che io già personalmente stavo facendo lo trovo comunque un libro utile magari a chi ha voglia di sentirsi ripetere alcune cose o a chi non le ha mai sentite un aspetto che secondo me ha in più rispetto ad altri libri sul femminismo è che si parla di più del ruolo degli uomini in tutta la questione si parla molto spesso appunto di e gli uomini? se le donne hanno questo problema gli uomini che problema hanno? per opposizione o per contrasto? e secondo me è un libro che in questo senso considera davvero entrambe le parti anche se è un libro che rimane sempre appunto su cose che io avevo già sentito dire e sapevo già quindi da questo punto di vista non è il libro che mi ha stravolto l'anno neanche in questo caso un libro che invece ha aggiunto sicuramente un tassello in più alla questione femminista è Obiezione respinta diritto alla salute e giustizia riproduttiva di Cinzia Settembrini ma soprattutto di Obiezione respinta che è un collettivo di donne che si occupano di mappare gli obiettori di coscienza in Italia infatti questo libro parla di questo parla dell'obiezione di coscienza parla del diritto all'aborto e parla di quante volte e come accade che a una donna non sia tutelata l'autodeterminazione sul proprio corpo si tratta di una raccolta di informazioni in merito all'argomento si parla proprio di diritto in Italia si parla di come in questo momento viene considerato il diritto all'aborto di quali sono proprio le leggi del caso di quali si pensa che saranno magari i cambiamenti in merito e in più si aggiunge a tutta la questione un aspetto un po' più personale e a tutto questo si aggiungono anche delle storie personali le storie di donne che hanno provato ad abortire o ci sono riuscite o non ci sono riuscite e di che cosa hanno dovuto vivere quando si parla di questo argomento ovviamente bisogna riconoscere le due tipologie in cui ci si può rifiutare di aiutare una donna ad autodeterminarsi e a gestire il proprio corpo da sola ad esempio privandole la pillola del giorno dopo la pillola dei 5 giorni dopo in farmacia e ci sono tantissimi obiettori di coscienza nelle farmacie oppure quando si va in un consultorio quando si va in un ospedale quando si va in una clinica e si va a parlare magari con un ginecologo che non approva l'aborto oppure non consente a chi è davanti di praticarlo insomma di farselo praticare è davvero una questione spinosa è davvero una questione complessa e la cosa che mi ha fatto più riflettere in assoluto sono proprio le storie riportate all'interno delle storie di denuncia di trattamenti davvero psicologicamente molto violenti la violenza sulle donne secondo me passa davvero tramite il non consentire loro di scegliere che cosa è meglio per se stesse di scegliere per il proprio corpo e per la propria vita e avere davanti una persona che ti priva di compiere un gesto che tu vuoi compiere perché appunto ripeto hai il diritto di farlo in Italia c'è il diritto e nonostante questo tu vieni in qualche modo respinta vieni trattata male vieni giudicata vieni anche messa in pericolo fisicamente magari è terribile cioè questo libro davvero per me è stato difficile da leggere perché le emozioni che provavo mentre lo leggevano mentre lo leggevo erano tantissima rabbia tantissima frustrazione e la voglia proprio di cambiare le cose poi come cambierò io le cose non ne ho idea però mi ha proprio aperto un mondo su una tematica che sì di cui sì ero a conoscenza ma non avevo mai capito così bene ho letto anche le italiane di Aldo Cazzullo allora Aldo Cazzullo è un giornalista io l'ho sentito parlare al salone del libro di Torino e in quel video vi ho parlato anche un po' di quello che lui aveva detto circa i suoi due nuovi libri che sono a rivedere le stelle e il posto degli uomini sono due libri su Dante ma io mi sono fatta incuriosire da questa altra sua pubblicazione che è le italiane il paese salvato dalle donne in questo libro infatti Aldo Cazzullo va in giro per l'Italia a intervistare alcune donne che hanno un po' fatto la storia e che sono ancora in vita lui cerca di raccontarle sia tramite appunto ciò che hanno fatto sia tramite le loro interviste cioè questo l'ho già detto vi leggo alcuni nomi di donne che lui ha intervistato Franca Valeri Rita Levi Montalcini Maria Romana De Gasperi Franca Ciampi e Vittoria Leone Marida Recchi Chiara Ferragni Bebe Vio Valentina Vezzali Federica Pellegrini Sofia Viscardi Monica Bellucci Stefania Sandrelli Laura Morante e Elsa Morante ecco nel caso di Elsa Morante chiaramente non c'è la sua intervista ma si parla di lei tramite le voci di chi l'ha conosciuta come ad esempio Laura Morante che se non sbaglio è sua nipote dovrebbe essere sua nipote comunque in tutto questo il libro sicuramente è interessante perché è bello vedere secondo me i collegamenti tra queste donne e in generale i collegamenti tra queste donne e le persone che hanno vissuto nel loro stesso periodo storico infatti si va appunto dall'inizio del novecento in poi ed è bello vedere anche il vissuto che hanno fatto a livello storico queste personalità cioè in che eventi storici loro erano presenti è un bel modo proprio per avere una visione un po' di insieme della storia italiana però dal punto di vista delle donne che l'hanno vissuta ho scoperto leggendo questo libro cose che non sapevo ad esempio che Elsa Morante stava con Alberto Moravia cioè tipo io sconvolta però c'è forse un po' troppo gossip in tutto ciò cioè in tutte queste pagine c'è un po' troppo gossip si scade secondo me a volte proprio nel giornaletto tipo cioè no cioè come si chiamano tipo chi chi l'ha visto non so no chi l'ha visto un'altra cosa ancora se si vede che non leggo queste cose vabbè tipo giornaletto gossip che si trova dal parrucchiere perché effettivamente Aldo Cazzullo spesso e volentieri fa queste donne delle domande troppo troppo personali soprattutto sulle loro relazioni amorose cioè proprio gli chiede ma con lui sei stata non sei stata vi amavate non vi amavate e a volte si va un po' troppo secondo me su queste domande che sinceramente non so quanto ai fini del libro possono essere utili cioè a tutte le donne gli ha chiesto delle loro storie d'amore cioè perfino a Gianna Nannini allora io dico sinceramente che cosa ce ne frega a noi della storia d'amore tra Gianna Nannini e chi va là cioè nel senso non ci interessa perché lei non è famosa per la sua storia d'amore cioè lei non è importante per la sua storia d'amore capisco forse un po' di più quando si fanno queste domande a mogli di politici o cose di questo tipo ma quando si parla ad esempio di non so Valentina Vezzali il fatto che lei sia sposata non sia sposata abbia dei figli non abbia dei figli ai fini della nostra discussione non so quanto possa interessare e a volte secondo me si scadeva un po' in questo tipo di domande che di solito secondo me agli uomini non vengono fatte cioè se fosse stato fatto un libro del genere sugli uomini io non sono sicura che gli avrebbero fatto queste domande per il resto una lettura scorrevolissima scorrevolissima l'ho letto in pochissimo tempo e ho imparato tante cose che non sapevo quindi da quel punto di vista comunque buono ho anche ascoltato piccole donne crescono sempre su Audible perché lo scorso mese avevo ascoltato piccole donne e volevo dare una degna conclusione a questa serie di libri due libri mi è piaciuto forse di più di piccole donne più che altro perché ho sentito un po' meno quel tono morale che c'era tantissimo nel primo libro secondo me è anche giustificato perché appunto piccole donne è una storia pensata per i bambini quindi ci sta che debba insegnare qualcosa dare una direzione avere all'interno appunto dei precetti morali nel secondo libro forse questa cosa è un po' più alleggerita ma soprattutto loro diventano più grandi quindi iniziano a diventare anche un po' più indipendenti secondo me comunque non tantissimo cioè se io penso ad altri romanzi ambientati in quel periodo ad esempio Via col vento che è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto ve l'ho detto mille volte le protagoniste di piccole donne sono ancora abbastanza relegate a ciò che la società si aspettava che loro facessero non sono delle protagoniste rivoluzionarie e questa cosa qui a me sinceramente è un po' annoia più che altro perché poi alla fine di tutti questi libri loro saranno tutte sposate o quasi e si conclude quindi in questo modo una storia che vuole vedere loro che si liberano un po' dal gioco della società però poi alla fine lo fanno cioè alla fine si ritrovano tutte all'interno di un matrimonio e anche questo matrimonio che viene descritto nel corso del secondo libro è un matrimonio in cui la totale responsabilità sembra sempre essere data alla donna cioè la responsabilità del funzionamento del matrimonio è dato alla donna che si deve preoccupare dei figli del marito che il marito stia bene che stiano bene i figli lei ovviamente non esiste e se qualcosa non funziona ovviamente è colpa effettivamente della donna vengono dati degli insegnamenti all'interno che possono essere anche giusti e condivisibili però allo stesso tempo c'è sempre questa voce quasi che ti impone di essere così e io l'ho sentita tanto con piccole donne c'è questa voce che ti dice è giusto che sia così deve essere così se tu non sei così allora non sei una brava persona cioè se tu sei una donna che invece di pensare al proprio marito pensa troppo ai suoi figli ti stai comportando male per cui è giusto che ti capitino le cose brutte e a volte questa cosa qua io la trovo estremamente anacronistica ma comunque stiamo parlando di un libro del 1860 quindi cioè nel senso va bene ci sta la capisco un'altra domanda che mi sono posta è se io percepisco quest'estrema morale del libro per via della voce che lo legge in audiolibro che è la voce di Laura Pietrantoni lei effettivamente ha una cadenza che a volte secondo me scade un po' nell'infantile quasi appunto stessero parlando delle bambine che se nel primo libro è coerente secondo me con l'età dei protagonisti nel secondo libro inizia a diventare un po' fuori tema perché se a un certo punto sento Lori che mi parla con la stessa voce con cui mi parlava Joe nel primo romanzo inizio a non a non capirci più tanto insomma c'è questa cadenza che se avete ascoltato l'audiolibro fatemi sapere se anche voi l'avete percepita io sinceramente faccio fatica a spiegarvela così se non l'avete ascoltato come ho fatto io comunque devo dire che alla fine l'ho trovata una storia una storia piacevole adesso sto recuperando anche il film ho guardato la prima parte ieri sera appena uscito su Netflix con un cast spettacolare e di questo ve ne parlerò nei preferiti del mese dove parlo di solito dei film serie cose che guardo il libro del mese però è stato le sette morti di Evelyn Hercastle che è stato il libro del gruppo di lettura che discuteremo la seconda settimana di dicembre in live su Instagram quindi se avete letto il libro e volete partecipare mi raccomando seguitemi su Instagram e mi trovate là a chiacchierare appunto verso la seconda settimana di dicembre di questo romanzo ed è in poche parole un mistery un mistery un giallo in cui secondo me si va proprio oltre oltre io l'ho definito un Agatha Christie con steroidi perché l'ambientazione intanto è quella quindi una magione dispersa nella campagna inglese comunque non si capisce dove in cui c'è questa famiglia i coniugi Hercastle che hanno un sacco di figli e uno di questi è deceduto misteriosamente non si sa ancora bene come sia andata la questione e dopo anni mi sembra 13 anni 18 anni adesso non mi ricordo dopo 19 anni la famiglia decide di riunire in questa casa tutte le persone che erano presenti quando questo figlio fu assassinato in tutto questo già io vi avrei dovuto comincere a leggere il libro perché è una storia già che per quanto mi riguarda ha tutte le carte regole per essere una bellissima storia ma aggiungeteci un qualcosa in più perché non voglio andare troppo nei dettagli perché io li ho scoperti leggendo e secondo me è anche il piacere di leggere questo libro quello di scoprire queste cose però non si tratta di una consueta storia misteriosa che si sviluppa in modo lineare c'è un che di sovrannaturale non tanto c'è una cosa che però non scade mai secondo me nel troppo comunque nell'esagerato nell'eccessivo si rimane sempre in un campo ristretto diciamo in un cerchio ristretto per cui alla fine del libro tutto torna e secondo me non si lascia il lettore appunto con quell'impressione che qualcosa non avesse senso infatti ci sono tantissimi misteri in questo libro c'è tantissimi misteri c'è un mistero dalla prima all'ultima pagina e quando lo si legge sembra proprio di vedere tutti questi indizi si percepisce proprio che la scrittura è pensata per contenere all'interno tantissimi indizi e alla fine questi indizi trovano una soluzione perché alla fine tutto viene spiegato una cosa però è che bisogna fare molta molta attenzione è un libro che richiede un certo impegno perché se voi lo leggete aspettandovi che tutto vi venga spiegato e che tutto torni e che le cose vengano ripetute mille volte non è così io durante la lettura ho preso appunti mi sono segnati i nomi dei personaggi che sono molti moltissimi e secondo me anche ben caratterizzati e mi sono segnata anche alcune cose ho sottolineato ho preso appunti quasi fossi io un detective quasi fossi io il detective che doveva risolvere il mistero e secondo me va presa in questo modo io adesso non vi faccio vedere però all'inizio c'è la lista dei personaggi su cui io ho segnato a matita alcune cose quindi non ve la faccio vedere perché sarebbe spoiler e questa invece posso farvela vedere la cartina della magione di cui vi parlavo in cui ci sono i nomi di tutti i personaggi con la loro stanza in cui si vede come sono disposte le cose ed è appunto utile a orientarsi nel romanzo che è un romanzo in cui si va proprio in esplorazione cioè ci sembra di essere costantemente con il protagonista in cerca della soluzione finale bellissimo è il libro del mese mi è piaciuto un sacco e sicuramente di Stuart Tarton recupererò anche un altro libro che ha scritto che è questo perché mi è piaciuto troppo questo romanzo e me l'ho detto che l'altro è comunque al pari diciamo si merita allo stesso tempo la mia attenzione e quindi lo comprerò l'ho già messo in wishlist per Natale deve essere mio detto ciò questi erano i libri che ho letto questo mese più tutti gli audiolibri io spero che vi sia piaciuto questo video fatemi sapere qua sotto che cosa avete letto voi se non l'avete ancora fatto mi raccomando lasciate un like di sostegno e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao